Cappello di paglia, uniforme delle mondine, questa è la squadra di Modena, entrano in una vita da reggimento femminile, alla stazione paiono ragazzi di leva, stesse letture, salvo qualche piccola differenza, allegro il momento di imbarcarsi se non rimanesse qualcuno sulla banchina, a Vercelli e nelle province limitrofe ne affluiscono 200.000, sradicano dalle risaie più fitte le pianticelle che i tecnici selezionano, per il trapianto occorre una specie di aratura, pesanti spianatoi livellano il terreno allagato, quando tornano alle cascine le Mondariso hanno una grazia da rustiche bagnanti, sono le ore in cui il giorno si placa, nella scodella dopo tanto riso fa piacere trovare un po' di pasta, appetito da lavoratrici, salde mani che tremano solo un poco nell'aprire le lettere da casa o quelle del fidanzato.